Questa amministrazione è convinta che solo con il vostro, con l'apporto di ciascuno di voi, di ciascuno di voi per il singolo pezzetto che fa nell'attività lavorativa di ogni giorno, noi possiamo, come dire, migliorare l'attività del comune. Nella sala gemito della Galleria Principe di Napoli sono iniziati i corsi di formazione per il personale predisposti dalla Direzione Generale del Comune di Napoli. Sono sei e si rivolgeranno ad oltre 650 dipendenti in 28 giornate, su materie come la digitalizzazione, i fondi strutturali, la valutazione del personale e gli appalti. È un momento, ovviamente, per allargare anche il sapere professionale che ognuno di noi si porta dentro. Ci sono sicuramente delle punte di eccellenza, ci sono sicuramente dei settori dove, con modifiche organizzative, l'attività può essere molto migliorata. È un lavoro che stiamo iniziando a fare, il Sindaco ovviamente punta molto sulla risorsa umana perché noi riteniamo che ogni singola persona sia una risorsa per l'amministrazione.